Skycube Gli obiettivi invece sono i seguenti Fare una farm di grano, anguria, canne da zucchero e meloni Fare una casa con almeno 20 blocchi di vetro Fare tutti gli utensili in diamante L'armatura in diamante Adottare un lupo Fare un portale del nether Prendere almeno 20 pezzi di glowstone Raggiungere l'isoletto del land Tutto qua Bene strategico prendo il materiale che è dentro le ceste La ceste E buon cominciamo dai Attento qua al salto Ragazzi se mi scatta un po' è perchè sto servendo Questa mappina qui è madonna quanto pesa Poi siamo su skypost Sto stando io quindi Se scatta leggermente quello però come potete vedere Sulle altre mie mappe non è che scatto Quindi non peticoglioni Nei commenti se scatta e basta Ovviamente lo renderizzerò A 30 fps quindi farò il mio meglio Però se Non è che sto laggando ovvio però se Dovesse scattare un pochettino conoscete il motivo E non mi trastullate La parete scrotale nei commenti L'ho detta pulita eh Bene Faccio una crafting table Si dai Crafting table L'ho posizionata qui Ok Ognuno fa il suo in quanto ha stick e piccone In questo modo non ci uccidiamo Nel farne tipo 2, 10 Eccetera eccetera Ok mi sono fatto piccone e spada di legno Uccido qualche animaletto per fare un po' di carne Non ti vedo però immagino sei vicino a me No Sto prendendo legno Ah eccoti lì in fondo Intanto non abbiamo ossa per adottarci un lupetto L'ho ucciso io il tipo La pvp è il pvp La pvp non so come cazzo si dica E' attiva quindi stiamo attenti E' attiva quindi stiamo attenti E' polli piccoli non troppo nocivo Inutili esseri schifosi Direi di prendere il legno Oh no è caduto giù Direi di prendere il legno Si diciamo Il vel Ah La sand In questo modo riusciamo a fare Più avanti ovviamente Del vetro Che è un obiettivo Costruire una casa con almeno 20 pezzi di vetro Vi assicuro ragazzi che la casa verrà una figata Ve lo assicuro io Se non mi credete andate a vedere dei video del mondo 1 e state zitti Ok procediamo Una volta finita la mappa Vi darò Il download Della mia Della mia mappa Cioè del mio coso Metterò il download in descrizione E vi dico subito che Di questa mappa uscirà un episodio nel mio canale E uno nel suo In questo modo Sarà un qualcosa di diverso Sempre tutto nel mio Sempre tutto nel suo So good Allora Qui c'è questa struttura che mi intriga e non poco Allora Qui c'è la trappola dei sette nani Che l'avrebbe riconosciuta pure Gargamella Proprio Con i fili Da Ok qui c'è un dispenser Con un po' di Uova di zombie Che cazzo servo Tanto la mappa dice che possiamo rompere qualsiasi blocco ragazzi Quindi mi foto questa redstone Oh c'è uno zombie Vabbè lasciamolo stare lì Sì lasciamolo stare lì Comunque ho interrotto il percorso di redstone Mi foto tutto il dispenser il pistone tutto mi foto Sto piantando gli altri alberi e quelli che casano così Sì sì fai bene Poi ora dobbiamo vedere solamente come Che è come andare avanti Cioè è tutto qua che cazzo come cazzo faccio A prendere tutto è necessario Io vorrei per Io vorrei per Degli alberi al contrario Non so se sono di down io o sono davvero al contrario No penso siano davvero al contrario Allora mettete pianta gli alberi Ricordati la distanza Se sono troppo vicini non ce la fanno a crescere Io direi di entrare in caverna da qui Spaccando in terra dici Comunque qui c'è un'entrata in vetro Faccio un saluto Ma non risponderai Spacco il vetro e entro dai C'è l'acqua quindi male male che ci vada Esatto sono entrato grazie all'acqua Uh c'è la caverna perfetto vedo cobblestone Tirati sulla crafting table che me la sono dimenticata Sì E ti aspetto io qua giù Intanto mi faccio gli utensili Cioè mi prendo la cobblestone per farmi gli utensili Di circa dieci pezzi Redstone già all'entrata vabbè Scaviamo un po' di lato Un po' verso sinistra Sto scavando verso destra però perchè sono down Vabbè Sentite questo rumore di sottofondo ragazzi Se mi dite nei commenti come Cristo rimuoverlo Giuro vi spedisco una bambola gonfiabile a casa Allora crafting la metto all'entrata Dove? Mettila tipo qua Tipo qua mettila qui Ti sto facendo l'alone Vabbè l'ho già posizionata qua avanti Ah va bene Stick piccone di pietra Stick Spada di pietra Spada di pietra Ci facciamo La ascia di pietra E infine La palla di pietra Io ho tutto in pietra A parte la rata che è inutile come Come il profilattico in un film porno proprio proprio inutile E dai Quindi Oh caverna che cazzo Oro carbone cristo ti aspetti aspetto Fatti il necessario prima Scaletto che già comincia a spararmi Spè Lo killo Lo ami skillo Spè Con queste battute squalide dovrei cancellare il canale Ma sì sicuramente Cerchiamo del carbone per fare delle torce Scaviamo di lato e cerchiamo di evitare i mob E non spaccare il buco eh Sennò cominciano ad uscire Sicuramente non mi vadi E mi sembravano tantini Io butterei un secchio di lava dentro Mmm non male aspetta dai Però ci provo L'ho buttata Cosa almeno a parte fa un po' di luce Sì esatto dai Cazzo ci facciamo qui la casa semmai Metti qui la craft in te Cazzo Cosa? Continua a perdere vita ma non c'è il motivo Eh la La salute cioè la fame com'è? Eh ho ancora Ho perso solo tre coscette Anch'io Eh giustamente abbiamo iniziato allo stesso momento Stai fermo stai fermo dai Ci penso io Ah vai a prendere la craft in table e mettila qua sotto Cioè sotto la La fornace Ci facciamo qua la casa Per ora Oddio 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 i fan l'hanno visto Ho scavato qua c'è Non ti dico quanta gente c'è Vai a controllare il solito A parte i due enderman Vai in fondo a vedere che già Allora gli ammazzo quelli di qua no vabbè Mi tiro su Ho un secchio di lava Eh anch'io me l'ho tirato sul mio Glielo butto? Sì sì Prova a buttaglielo vediamo Che ma non così madonna quanto sei down Così incendi noi non loro Ritiralo su Devi buttarlo proprio in centro Guarda adesso com'è E vedi come ero buttato io in centro proprio Così bruciano Se ti va bene Mi è dato un colpo vabbè Aspetta l'ho tirato sul secchio ma c'è ancora lava Allora faccio la mia tecnica In questo modo dovrebbero bruciare A parte qui c'è un creeper L'ho buttato nella lava lo sapevo Allora dobbiamo stare attenti noi ora con questa lava Fai così fai dei buchi laterali E ogni tanto dai un'occhiata ferro Ogni tanto dai un'occhiata Ferro e carbone aspetta che metterlo su tutto Piano che c'è la lava Attento che mi dai un colpo e mi butti giù Per cui mi faccio la scaletta per evitare Ho trovato dell'oro Oro adesso si ho visto anch'io E cerco di chiudere la lava qua perchè potrebbe essere abbastanza pericoloso Ok l'ho chiuso Cioè c'è solamente un po' così fa luce anche E tutti gli zombie dall'altra parte non possono passare Piano piano tira la sua lava Sì 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 era per uccidere lo scaretro Eh ci vado io con la spada Eh non se ne vuole andare aspetta Oddio quant'anni hai messa Boh Beh ne metto un po' qua per fare luce Allora qua cosa c'è? Non c'è niente c'è un creeper e basta Vabbè due due creeper e uno scaretro Un enderman sono morto ciao basta c'è un enderman via 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 L'ha attaccato? Eh mi ha attaccato lui Tanto ora va che ce la com'è non con te Mi si trasporterà davanti Tanto cuocio un po' di carne qua Se tu hai carne buttala dentro Eh no Io ho dato un colpo a landerman perchè stavo uccidendo gli creeper Uh che calo di framerate Eppure non sto laggando ragazzi Cioè vedete che c'è... vabbè E' la mappina che non è proprio leggera Poi vi ho già detto Tra... Tra server, tra chassami e multiplay Oh vado 4 cosciette ma dato Overpower ok E' uccidiamo qui due creeper Aspetta che mi si ricarica la vita Ho due blocchi di buone dove è così Non c'è sentito niente vabbè Ah mette dentro la fornace Ho intuito Ok eeeh La carne che si fa lasciala lì Tanto c'è io ho già due Poi il paletà la tua che sarebbe tipo tua Sì sì Intanto io ho 4 cubetti di ferro e mi faccio un'altra fornace Una la facciamo solo per la carne E l'altra per tutti i materiali in generale Così la carne che è un po' più importante Rimane... Rimane... Ha una fornace a seda Mi fotton un pezzo... Ah tanto la carne ha smesso di cuocere Hai pronta la tua carne? Che è morto un crimano dove? Vabbè... Ho acceso Tutte e due Tanto se ti vuoi prendere la carne io ce l'ho di nuovo tutta la vita C'è uno zombie e un creeper Spai creeper dovrebbe morire E' esploso che coglioni sto creeper Ok lo zombie l'ho chillato allora Se devo passare qualcosa a sti inutili Dobbiamo trovare del carbone per fare delle torce Perchè non possiamo andare avanti a lava Madonna mi sono cagato sotto Ho detto che cazzo è armato questo è arrivato addirittura Piano di qui c'è la lava eh Error di armato Cerca... oddio uno scattolo madonna quanto cazzo sono potenti con un colpo di 17 cuori Mi conta che i no 10 quanti cazzo sono Ok chillato allora ci vuole del carbone trova del carbone Qui c'è troppo... oddio 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 sono troppo Un enderman... basta che non ti guardo Ho trovato un blocco di diamante Mi sta attaccando all'enderman ma che cazzo per forza mi fotte tutta la vita Eh mia 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 mi ha guardato lui non è che l'ho guardato io però dai Cioè che coglioni Vabbè C'è un enderman... Eh io non cerco di non guardarlo ma mi sa che mi ha guardato lui Cioè non vai che vale se mi guardi tu allora mi puoi uccidere cioè non va bene What... Lo uccido io sto scarpara... mi son fatto la spada in ferro... aspetti do due pezze di ferro No... fatti la spada Se ti andrà almeno lo ammazzo te lo giuro Madonna quant'hai rotto le palle in drd di merda No... 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 Prendi l'occhio di andermi Eassi... ed il carbone troppo in questo modo potevamo prendersi uno scheletro faccio finire la vasca l'accelerà il farro anche il conti un pezzo di diamante tanto tanti 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 comunque con la scuola con la spada di ferro è molto più semplice maz critta faccio finire sulla lavata forse finirò io sulla lava piano che ti spinge giù ok 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 vieni perfetto tutti via via tutti che bruciano tutti qui c'è tanta roba non spaccare qua perchè altrimenti vengono su tutti falli bruciare che dovrebbe adesso tu tre ne ho ucciso con la cosa della lava ah no manca lui vado giù di shift dai così muore ok è morto allora qua dobbiamo chiudere accorgo la lava? no no non chiudere la coglia facciamo un percorso alternativo cioè sei down se ci vai dai è doppio il percorso qui c'è del ferro e qui c'è un dirupo con tantissimo carbone si io prendo il ferro tu prendo il carbone eh c'è un po' di gente qua fuori però no forse è uno e io ne vedo tanto no era uno però ci sono davvero sessanta pezzi di carbone carbone ah crema di merda schifo da dopo passo la rislazione si capisci poco quando parli ecco perché ti ho detto cerca di parlare poco perché c'è no già là la qualità audio non è proprio eccellente qui c'è pure del ferro c'è tanta roba ok così possiamo far centrarmi i picconi di ferro e tirar su tutto quello che c'è lì che è davvero tanto cerca di non allontanarti troppo altrimenti poi ci perdiamo comunque se la serie vi piaccia ragazzi la serie continuerà se avrà 50 mi piaccia abbiamo fatto lo stesso giochetto con skyblock e ne ho ottenuti 55 davvero sono piccole soddisfazioni perché in poche ore 55 mi piace qua sono i figli di buona mamma che mi rompono le palle ovvero gli scheletri comunque ho preso una buona somma di carbone devo dire che così si può fare si può fare si può fare le torce e cosa che si può fare bravo perfetto hai messo lì la cesta eh ma non si avrà eh perchè c'è sopra è assoluto idiota sto piacendo del ferro aspetta e prenditelo ne servo un'altra posso fare il piccone aspetta un attimo devo spaccare sta cosa ok se metti lì la cesta almeno metti qui la cosa così siamo a posto è tutta a muro sta cosa però è una figata bom la cesta io lascerei giù tutto quello che è inutile tipo ste cacate le torce no la carne quella lì si gun power i fili il resto gli secchi no lana lana no ok sostanzialmente tutto a parte tutte le armi e tutto il cibo che abbiamo se trovi cibo mettilo giù se ce la fai che aspetta metto a cuocere la carne con la legna e qui metti 3 i pislazzori e lì invece ho messo ho messo del ferro poi se me lo lasci almeno facciamo entrambi i picconi e poi possiamo tirare su qualche via via attento alla lava abbiamo le spade di ferro dai e ti fai te lo fai pure scoppiare cioè non puoi dai allora vada come chillo tutti sono a livello 4 sto uccidendo mezza mappa sto uccidendo l'importante è che la nostra casa rimanga sempre ben illuminata e che così non non intrino e comincio a illuminare un po' tutto io dimmi qualche zona che è leggermente più buia che ci metto qua 2-3 torce ecco ecco qui c'è proprio c'è proprio la caverna che va avanti tira su del ferro è qui non so non mi vedi se legge il mio nickname è da questa parte penso che l'hai letto io lo leggo il tuo vabbè intanto vado a prendermi il ferro che sto cuocendo perché c'è l'altro ferro almeno puoi farti anche tu sì sì ho due cose di ferro già posso farlo ora venga a farmi il piccone in ferro sì sì piccone in ferro ne ho uno te lo lascia te lo metto dentro la cesta non ho che piena già la cesta mi porto la carne anzi la carne te la lascio qua no questa qui mi arpendo ti lascio un pollo crudo se vuoi cuocitolo se ti serve madonna sta carne quanto sei cuori madonna sei cose come cazzo si chiama ok cominciamo a picconare un po' tutto perché è tutto prendibile grazie a questo piccone tra un po' ragazzi finiremo l'episodio perché siamo bastardi se non è che possiamo fare tutt'ora che mi piacerebbe sì dai anche se non è male commentare mi sono bagato però prendiamo l'oro prendiamo questi ultimi materiali e poi ragazzi vi ricordate se vi ha 50 mi piace la serie continua se non ci saranno questi mi piace dovremmo interromperla male in cuore perché è una figata cioè un survival oddio uno scheletro c'è capito perché è una figata per questo perché non è come gli soliti dungeon zombie zombie 17 zombie cioè è proprio difficile primo blocco di diamante boh boh fermiamoci qua dai che stiamo andando già troppo avanti prendi materiale normale tipo ferro e carbone quindi ragazzi io vi saluto anche per questo episodio un altro pezzo di diamante che non raccolgo anzi gli metto un po' di torce così giusto per celebrarlo vi saluto lasciate il vostro mi piace che come sempre è utile iscrivetevi al canale strategico che le lascerò in descrizione se non vi scrivete ero brian vi farà la visita questa sera quindi fosse in voi io mi iscriverei un altro blocco di diamante qua per l'esattezza ho detto lascialo stare no no c'è un altro ah ok stai fermo stai fermo sennò poi c'è prendiamo tuttora come dicevo vi saluto lasciate un bel mi piace da strategico da piazza è tutto ciao ciao ragazzi grazie a tutti